E bentornati sul canale Ash Williams Cosmica Io, davvero fan di Bruce Campbell Il cazzutissimo Bruce Campbell Mi farò arrivare ben due film dei suoi più sconosciuti Il secondo film diretto da Sam Raimi Ovvero Crime Wave Che in Italia fu intitolato I due criminali più pazzi del mondo Dove Bruce Campbell in verità fa una piccola parte Doveva essere il protagonista del film Ma lo studio decise No, non può essere Bruce Campbell il protagonista Se no un altro che Un attore Manco lui si ricorda come si chiama Però Bruce Campbell c'è C'è E poi è un film super stupido, demenziale Che scrisse Sam Raimi insieme ai fratelli Coen Quindi è da recuperare, obbligatorio Film dell'85 che non incasso veramente un cappero Ma è già un capolavoro E non l'ho ancora visto L'altro invece L'altro film del 1989 Si intitola Sundown Tramonto Il ritiro del vampiro Con protagonista David Carradine Quello di Kill Bill C'è anche Bruce Campbell Che fa la parte di un discendente di Van Helsing Il film non uscì proprio al cinema Uscì direttamente in VHS Un altro B-movie assoluto Ma che io mi recupererò Claro Bruce Campbell forever Questi sono i capolavori No ste cacate che state facendo uscire ultimamente Avatar, Avatar 2 Spider-Man, The War, The More Stuff Ma fa ma la Ma la fampi Fitness Cosmica